nella sua opera. L'ultima opera di Ernst che vediamo oggi è forse una tra le più misteriose è la Vestizione della sposa del 1940. Qui il tema sotteso è quello della verginità e quello dell'erotismo. Il passaggio per la donna dalla condizione di vergine quindi proprio anche nel senso non solo tecnico ma nel senso anche filosofico cioè di chi non conosce a chi invece conosce. E qual è il momento del passaggio? È appunto il matrimonio, è il rito del matrimonio e la susseguente esperienza sessuale che apre alla donna un altro mondo, il mondo della conoscenza. Vi ricordo che dobbiamo anche ragionare in termini di epoche quindi un'epoca quella ancora degli anni 40 dove il valore della virginità, il valore appunto del matrimonio come momento di passaggio per la donna era particolarmente sentito quindi non è in alcun modo rapportabili al mondo contemporaneo. Bene in questa scena che è uno dei quadri tra l'altro di Ernst più famosi vi ho detto che ci sono una ricchezza di simboli sessuali ed erotici ma partiamo con l'analisi. Ci concentriamo sulla figura femminile centrale cioè la donna di cui si nota il corpo e che è ricoperta da questo enorme mantello di piume rosso. È un mantello che la rende simile a un animale secondo alcuni il gufo o la civetta perché sono gli animali che guardano nel buio quindi che hanno la conoscenza laddove gli altri non vedono e guardare nel buio ha proprio questo valore di squarciare l'ignoto e di pervenire alla conoscenza. La civetta tra l'altro è anche simbolo della dea Minerva quindi un'allusione anche alla dea che aveva proprio come simbolo tra l'altro animale sacro la civetta e quindi rimanda ancora al mondo della conoscenza. Questa donna ricoperta da questo manto così particolare è avvicinata dall'uomo uccello verde che vedete a sinistra che ha le gambe umane e il corpo di un animale sembra appunto un uccello fantastico cioè generato dalla fantasia e la donna è trafitta da una lancia spezzata e la figura invece verde ha nelle mani una lancia che punta verso il ventre della donna e questo è un'allusione come dire piuttosto chiara all'atto sessuale e quindi alla verginità violata. Altro elemento che possiamo vedere è la donna invece che sta a fianco, la giovane che sta a fianco che invece impersona la verginità, guarda verso il quadro che sta alle spalle e ne resta pietrificata, una chioma riccioluta, pietrificata che rimane ferma e fissa in questa posizione disarticolata in cui il collo si allunga in maniera non naturale e appunto perché? Perché è la donna che non conosce e quindi che cosa fa? Cerca di conoscere attraverso l'arte, attraverso il quadro che riprende come un doppio la figura femminile col mantello rosso. Qui è anche il discorso appunto affrontato dai filosofi del doppio e quindi la valenza filosofica di quanto è di ciò che è doppio e l'alternanza tra realtà e finzione. La ragazza non deve conoscere, infatti la donna la allontana quasi con un gesto perché non è ancora pronta alla conoscenza, non deve sposarsi, quindi non ha questo passaggio, questo rito iniziatico e quindi non deve pervenire prima di questo rito alla conoscenza. Vediamo poi che c'è un particolare interessante che è quello del pavimento, che è un pavimento obliquo ulteriormente enfatizzato dalle piastrelle a scacchi e ai piedi della giovane c'è questo idolo ermafrodito, questo idolo verde che fra l'altro bilancia la figura verde dell'uomo che stava a sinistra della donna e appunto in basso a destra troviamo questo idolo ermafrodito con entrambi i caratteri sessuali che è con questo ventre molto prominente e che si asciuga le lacrime. Il senso di questa figura non è del tutto chiaro ovviamente, ma è una figura che probabilmente viene dai viaggi che l'artista aveva fatto in Oriente e dalle statuette di idoli della fertilità che aveva sicuramente visto e da cui prende ispirazione. Il tribù havaiane, quindi è qualcosa che viene anche qui come l'idolo da un mondo che non ha una religione appunto come quella europea, ma è una religione animista, quindi una religione che crede nei riti magici, negli idoli, nel contatto con la natura. Quindi abbiamo anche l'inserzione di questo di questo elemento che è un elemento ancora di più straniante e surreale. Con questo penso che possiamo dire finita la nostra disamina su Ernst e vi auguro buon lavoro.